Sono Lapo Carradori, classe 98, ho fatto i giovanili nell'Empoli, è la mia prima esperienza tra i grandi e ho scelto di venire via a Tavarnelle perché mi piaceva il progetto. Sono Tommaso Tirenzone, classe 99, difensore, sono riuscito nelle giovanili dell'Empoli e l'anno scorso, da gennaio, ho fatto il campionato di Serie D per la Colligiana. Sono qui perché penso sia una società ambiziosa, anche se nel suo piccolo, e sono qui per far bene, spero di far bene quest'anno. Ciao, sono Francesco Frosali, ho 24 anni, è da tantissimi anni che sono qui a San Donato Tavarnelle, posso fare sia il difensore centrale sia il terzino, ormai sono quasi sette anni che sono già in prima squadra e sono di Tavarnelle. Ciao, sono Valerio Giordani, ho 25 anni e di mestiere faccio il difensore centrale, sono qui a San Donato perché in questa piccola realtà ho visto un gran bel progetto. Ciao, sono Pietro Manganelli, ho 23 anni, gli ultimi anni mi sono diviso tra Propriacenza, Teramo, Taranto, Gubbio e sono venuto a Tavarnelle perché mi hanno cercato il direttore e il presidente con insistenza e sono contento di essere qua. Ho sposato questo progetto perché credo di poter fare un bel campionato tutti insieme e forza torna! Sono Giulio Morandi, classe 1998, sono sempre stato qui a Tavarnelle, ho fatto i giovanili qui, quest'anno è il primo anno in prima squadra e spero di far bene. Ciao a tutti, sono Gabriele Vecchiarelli, ho 19 anni, vengo da Certaldo e faccio il terzino sinistro qui a San Donato. Ho giocato inizialmente a Certaldo nel mio paese, poi a Siena, a Poggi Bonzi e ora sono qui per il secondo anno a San Donato Tavarnelle. Ho scelto questo progetto perché fin da subito la società ha creduto in me e ho visto che c'era un progetto interessante sia dal punto di vista delle aspettative sia dal punto di vista dello staff tecnico e della squadra.